eccoci buonasera ben ben trovati bene bene arrivati vi porto allora siamo qui con fabrizio paulucci funzionario archeologo dal 2010 della galleria degli uffizi qui nostro vicino di casa fabrizio mi fa veramente piacere averlo qui perché innanzitutto è un compagno di università siamo stati in tempi che definirei archeologici compagni di università abbiamo avuto il piacere di fare anche dei lavori insieme nel 2004 abbiamo curato insieme una mostra dedicata al vetro negli usi scientifici del vetro nel mondo antico abbiamo poi lavorato insieme nel 2007 a una mostra sui giardini nell'antichità che fu fatta nella limonaia nel sì del giardino di boboli e ci siamo sempre tenuti in contatto quindi mi fa molto piacere averlo qui stasera a parlare di un tema che ha che ci ha permesso di ritrovarci dopo le due esperienze di cui vi parlavo nel 2019 abbiamo affrontato insieme un altro argomento legato questa volta alla costruzione della colonna traiana dal punto di vista della movimentazione di quei 29 enormi blocchi di marmo che messi uno sull'altro hanno consentito di ricostruire quel prodigio di tecnologia di arte di ingegneria di meccanica che è la colonna dedicata all'imperatore traiano che è uno dei simboli della civiltà romana oggi più noti al mondo in quell'occasione affrontammo appunto assieme il tema dell'estrazione del marmo delle cave su questi argomenti fabrizio è molto ferrato ed è proprio ciò di cui questa sera ci parlerà quindi benvenuti a tutti ben trovati alla fine potremo fare domande chi vorrà e ora lascio la parola a fabrizio grazie giovanni grazie per questi bei ricordi grazie avermi invitato e dunque oggi verremo a parlare di questa materia il marmo che nella civiltà romana ha sempre costituito un qualcosa di alieno il marmo è sempre stato avvertito come qualcosa di estraneo alla radice a quello che era il passato la storia la genesi della civiltà romana un materiale strettamente legato al concetto di lusso all'ostentazione del lusso un materiale al quale attribuire anche dei dei valori dei significati trascendenti che andavano al di là della semplice bellezza di ciò che appariva per capire come sia stato possibile questa la nascita di questo mito del marmo nella cultura nella civiltà romana bisogna ripercorrerne la storia bisogna ripercorrere quello che è stato il modo con cui i romani sono venuti a contatto conoscenza della del marmo della sua civiltà e della sua tecnologia se noi dovessimo pensare alla roma del 150 avanti cristo noi dovremmo pensare a una vasta metropoli la più grande città la più popolosa città di tutta l'italia isole comprese era una città che era già il baricentro politico del mediterraneo centrale del mediterraneo occidentale e dal 189 avanti cristo in seguito alla vittoria a magnesia sul sipilo quando sconfissero i romani i seleucidi l'influenza romana si stava progressivamente estendendo al settore orientale del mediterraneo una potenza politica ma l'aspetto della città era assolutamente inadeguato a questo ruolo centrale che roma stava acquisendo era una vasta città sì ma ancora concepita edificata costruita con le tecniche materiali della tradizione italica quindi mattoni quindi terracotta tegole nel migliore dei casi tuffo di grotto scura travertino delle cave di tivoli oppure pietra rossa tuffo rosso di gabi tutte pietre facili da tagliare resistenti ma assolutamente in adatte ad essere lavorate sapete com'è il tuffo travertino pieno di vacuoli cioè di buchi quindi non rendono la decorazione non sono possono essere utilizzati solo come blocchi squadrati per realizzare mura cinte murari e terrapieni agger ma non certo per realizzare colonne o finimenti e decorazioni architettoniche cornici via dicendo ecco che in questa città che dovete immaginare rossa dal toni prevalenti rossi e dalle vivaci decorazioni delle terracotte dipinte ecco che nel 146 avanti cristo fece improvvisamente irruzione il marmo una una data precisa è la nascita della cultura del marmo nell'antica roma ed è legata ad un'iniziativa particolare alla costruzione del tempio di giove statore per volontà di quinto metello detto il macedonico nel 146 infatti metello il macedonico va sconfitto l'ultima lega greca macedone la quarta guerra macedonica la grecia era quindi definitivamente entrata nell'orbita della potenza romana e con essa i bacini marmiferi della grecia quelli attici pentelico ma anche il marmo di tasos che è un'isola a nord dell'egeo il marmo del cosiddetto porta santa il marmo di chio nello stesso anno però 146 avanti cristo fu anche rasa al suolo cartagine una data simbolica un momento di svolta e con essa con la conquista dell'africa del nord ancora una volta parlando in chiave marmifera si aprirono i bacini della marmor lumidicum di cui parleremo fra poco il cosiddetto giallo antico ma quello che ci interessa è i marmi greci ecco che quinto metello macedonico per dimostrare tangibilmente il trionfo sulla grecia volle realizzare nel cuore di roma un edificio greco in tutti i sensi un grande tempio interamente realizzato in marmo greco pentelico quindi inevitabilmente innalzato da maestranze greche perché per lavorare un marmo materiale che non si conosce bisogna utilizzare delle maestranze che quel marmo invece lo conoscevano quindi non potevano essere scalpellini romani a lavorare il greco il marmo le maestranze al pari del marmo erano tutte importate greco era l'architetto ermodoro di salamina greci gli autori anche delle statue di culto ionisio e policle in sostanza nel 146 avanti cristo al centro di questa porticus che prese il suo nome porticus metelli e noi oggi conosciamo la pianta che vedete la conosciamo nella redazione di età augustea la porticus octavia in campo marzo di cui ancora oggi si vedono i resti il tempio che vedete tempi il tempio di giove in questa pianta nella redazione augustea ha perso la l'originaria forma periptero cioè con colonne lungo tutto il perimetro secondo una tipica concezione tipologia greca per acquisire una più romana pianta periptero sinepostico si dice cioè un periptero che privo è delle colonne sul lato posteriore ma immaginatelo che in origine è interamente circondato di colonne come un qualsiasi tempio della tradizione greca ecco in questa porticus quindi come un alieno tra virgolette planò nel centro di roma un edificio interamente marmo interamente greco greco dalla pianta al materiale alla decorazione ovviamente un edificio come questo non passò inosservato segnò profondamente la cultura di roma creò un modello al quale bisognava quasi inevitabilmente raffrontarsi era il primo segno tangibile della modernizzazione di roma dell'adeguamento di questa metropoli così così lontana dai modelli urbanistici ellenistici del mediterraneo orientale che cercava di modernizzarsi il marmo era lo strumento essenziale per modernizzarsi ora del gioco del tempio di giovestatore non ci rimane nulla ma per avere un'idea di questa prima febbre del marmo nella roma medio repubblicana possiamo volgere lo sguardo a questo tempio che molti conoscono il tempio cosiddetto di vesta in realtà il tempio di ercole per la stato realizzato questo tempio da mercante di olive ed è un tempio ancora una volta prettamente greco il più antico tempio in marmo di cui ci siano giunti e ci siano giunti resti considerevoli a roma la forma la pianta è prettamente greca una tholos le colonne erano tutte colonne in marmo pentelico delle colonne originarie ne è rimasta una sola però è sufficiente a darci la l'aspetto la prova il certificato che anche questo edificio che si data intorno al 120 avanti cristo è un esempio di questa imitazione di questo modello greco che plana nel cuore della metropoli italica ora quindi questi primi due esempi vi rispondono a quella prima osservazione che ho fatto cioè il marmo come elemento alieno vedete alla cultura romana il marmo in questo periodo è ancora un marmo interamente di importazione non viene dall'italia marmo lunense ci vorrà ancora più di mezzo secolo perché comincia a essere sfruttato il marmo con cui si costruiscono i primi edifici a roma è tutto marmo che viene dalla grecia quindi viene al di là del mare esattamente come vengono fuori italia le maestranze che lo realizzano gli architetti che le progettano e gli artisti che lo decorano questa matrice aliena della del materiale ne faceva naturalmente il suo pregio suo fascino è un oggetto che diventa di culto un oggetto col quale manifestare la propria potenza la propria ricchezza e sicuramente anche la propria cultura possedere delle elementi architettonici in marmo nella propria casa era un'implicita affermazione accettazione di quei modelli di vita ellenistici che andavano sempre più di moda in secondo luogo sempre nuovi marmi arrivavano a roma via via che l'impero di roma si espandeva nel mediterraneo ecco che la scelta si ampliava abbiamo detto nel 146 avanti cristo la grece l'africa del nord nel 130 avanti cristo l'ultimo sovrano degli attalidi lascia in eredità il proprio regno al popolo romano e con questa l'ascito testamentario roma entrò in possesso di buona parte della dell'ase minore o per meno dell'area costiera dell'ase minore e con questo di importanti giacimenti marmiferi di tutto il bacino di marmo bianco docimeno lo vedremo fra poco ma soprattutto del marmo frigio il marmo di sin nada quello che noi chiamiamo il pavonazzetto e ancora del marmo luculeum come lo chiamavano i latini o africano come lo chiamiamo noi e o ancora per esempio il marmo che è un marmo brecciato bellissimo dal cemento nero e dagli inclusi gialli ora devo fare una breve parentesi perché in effetti tutti questi nomi creano confusione noi nell'italiano corrente quando parliamo dei marmi colorati brecciati utilizziamo i termini utilizzati furono inventati dall'apc di romani del sedicesimo secolo quindi parliamo di portasanta cipollino africano giallo antico che sono tutti i nomi che possono fuori viare l'africano per dire non era un marmo africano in realtà è proprio il marmo di teos questo marmo dell'ase minore il giallo antico era il marmo numidico cioè dell'africa del nord cipollino era il marmo caristio marmo che era cavato in eubea scusate quindi io cercherò di utilizzare tendenzialmente il nome antico dei marmi se qualche volta uso quello italiano cercherò di tradurlo parallelamente quindi come dicevo si estende la influenza sempre nuovi marmi ti vengono disponibili e non a caso i protagonisti della politica romana dell'epoca cercano di controllare le fonti di questi di questo materiale così pregiato ho detto prima il marmo di teos quello che i lapicidi romani del sedicesimo secolo battezzarono come africano e i latini lo chiamavano lo chiamarono marmo lucullo perché fu proprio l'ucullo questo personaggio ricchissimo questo punto di riferimento della società romana della prima metà del primo secolo avanti cristo ad averne promosso lo sfruttamento per un uso monopolistico nella roma dell'epoca ma per esempio pompeo sfruttò le dette inizio uno sfruttamento sistematico delle cave del pavo nazetto cioè del marmo frigio che vedremo fra poco marco emilio lepido un esponente del secondo triunvirato promosse lo sfruttamento del marmo numidico il giallo antico nell'introtera di cartagene cesare promosse tramite il suo luogotenente mamurra che era stato capo della logistica all'epoca della spedizione in gallia lo sfruttamento delle cave di luni quindi i protagonisti della complessa conflittuale politica romana della metà del primo secolo avanti cristo cercano di controllare fonti di marmo perché perché il marmo come abbiamo detto prima è uno strumento di promozione politica esattamente come per esempio i giochi pubblici chi dà dei giochi alla plebe si acquista un favore sulla plebe un sostegno popolare chi dona al popolo romano edifici realizzati in marmo crea un consenso un consenso che serve come moneta di scambio per la nascesa politica in questa chiave ottaviano non fa affatto eccezione quando lui si fa costruire la casa sul palatino ad homus augusti è un tripudio di marmi rischiò di essere accusato di pubblica luxuria privata luxuria cioè una ostentazione di lusso di ricchezza che si traduceva in un comportamento del tutto come dire contrario nella tradizione degli antichi costumi romani e come si salvò da questa accusa costruendo al centro della sua casa un bel tempio il tempio di apollo palatino costruito sul suolo privato in pensis suis cioè a spese proprie e all'inizio di uso privato poi lo apri al pubblico ma all'inizio era un tempio privato quindi per il dio e a questo punto però era diventato un suo coinquilino perché apollo abitava con lui se dunque apollo abitava con lui ottaviano poteva essere paragonato a un dio e in effetti dentro la domus augusti uno trovava ben due statue che raffiguravano augusto in vesti di apollo questo però consentì un uso sistematico del marmo nella domus augusti troviamo già il porta santa che è un marmo chiotta provente da chio i marmi africani ma il giallo antico il il pavonazzetto da tutto il mediterraneo una raccolta di marmi colorati brecciati che testimoniavano già dell'influenza della ricchezza del personaggio ma siamo ancora in un clima tra virgolette di lotta civile di confronto che si giocava proprio volto alla conquista il favore della plebe però la domus augusti rappresenta per ottaviano un banco di prova una sorta di esperimento generale per quello che avverrà quando avrà il potere quando avrà il potere realizzerà il grande foro di augusto il foro di augusto tecnicamente è un tempio consacrato a marte utore marte vendicatore perché alla vigilia della battaglia di filippi nel 42 avanti cristo augusto promise al dio marte che se avresse vinto e sconfitto i parricidi cioè gli uccisori di cesare avrebbe retto un tempio a in suo onore a roma mantenne questa promessa 40 anni dopo il grande tempio di augusto di marte utore che domina il foro di augusto fu inaugurato il 2 avanti cristo e in questa piazza nel foro di augusto troviamo un uso sistematico del marmo come era stato nella domus augusti questa volta però è cambiato qualcosa adesso l'uso del marmo non vuole più celebrare se stesso la propria cultura la propria ricchezza i propri mezzi ma vuole celebrare la potenza di roma ecco che il marmo acquisisce un nuovo significato è la spoglia tangibile dell'estensione del potere di roma cioè nel nel foro di augusto noi troviamo marmi che vengono da tutto il mediterraneo e sono la prova che roma controlla tutto il mediterraneo la piazza dominata dal foro di marte utore nel tempio marte utore che pensate aveva colonne marmo di luni alti 60 piedi cioè se si sono monoliti di 16 metri peso stimato di 85 tonnellate l'uno aveva i portici laterali in marmo giallo 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 antico quindi marmo numidico proveniente dall'africa del nord le colonne interne della delle navate interne erano verdi erano colonne verdi di cipollino marmo caristio dell'eubea i pavimenti erano tutti in opus sectile realizzati con marmi dell'ase minore dunque asia africa grecia se a questi si aggiungeva la decorazione dei clipei che scandivano la sequenza architettonica della piazza dove trovavamo effigi di divinità celtiche di egiziane si completava il quadro di un del sogno ecumenico dell'impero romano questo valore simbolico del marmo come segno di dominio come spoglia delle popolazioni divinte è trasparente nell'uso di questi marmi brecciati per raffigurare i barbari i barmi brecciati qui vediamo appunto per la prima volta il marmo frigio il pavonezzetto che venne detto anche marmo di sinada dalla città che sorgeva in vicinanza delle cave se voi ci pensate un marmo assolutamente inadatto a raffigurare statue perché la brecciatura questi colori disturbano la lettura delle superfici non si fanno stato in marmo brecciato perché sono brutte verità è questa però perché invece in età augustea si cominciano a fare statue di barbari raffigurate in marmo brecciato perché appunto raffigurano barbari dunque sono raffigurati con una pietra barbarica che viene da quei paesi sconfitti e infatti raffigurano barbari sconfitti inginocchiati questa è una stato che al nazionale di napoli faceva parte di un gruppo di tre che sorreggevano un tripode sono tre barbari orientali come orientale il marmo con cui sono realizzate quelle immagini che sostenevano un tripode ma lo stesso fu applicato in forma ancora maggiore nella basilica emilia dove per celebrare la vittoria sui parti contro frate quarto furono realizzate 22 statue gigantesche di barbari frigi orientali persiani realizzati in marmo frigio appunto in marmo pavonazzetto dunque ripeto ancora una volta un uso ideologico evidente trasparente del materiale come strumento di celebrazione di vittoria questo è naturalmente uno delle delle ricadute più normalmente il marmo era utilizzato per abbellire spazi pubblici e privati vi vedete anche il marmo luculleon finalmente che era il più bello di tutti vedete in un cemento nero questi inclusi gialli dorati era un marmo particolarmente apprezzato per la decorazione pavimentale non certo per la scultura tutto tondo che lo rendeva davvero illeggibile le forme quello che è interessante rilevare è la politica che augusto conduce nei confronti alla gestione delle cave è una politica in realtà assolutamente coerente con altri aspetti della della sua linea politica abbiamo detto che il marmo poteva diventare un potente strumento di autopromozione nel clima successivo alla fine delle guerre civili nel clima di pacificazione sociale cosa fece ottaviano disinnescò tutti quelli che potevano essere gli strumenti con cui qualcuno è un pretendente un avversario potesse ottenere il favore della plebe quindi per esempio proibì che i privati potessero pagare giochi senza autorizzazione a roma soltanto l'imperatore poteva pagare giochi per la plebe per il popolo l'unica eccezione il console il primo giorno di carica gli veniva concesso l'onore eccezionale di pagare dei giochi per la plebe ma era un caso unico tutti gli altri giochi gladiatori giochi venatori feste nette nei teatri tutto quello viene in mente era autorizzato e pagato soltanto all'imperatore perché perché attraverso questi giochi appunto si otteneva al favore della plebe e se uno al favore della plebe diventa un potenziale avversario un potenziale nemico potenziale elemento di destabilizzazione sociale e politica dunque allo stesso modo anche le cave rientrano sotto il controllo imperiale cioè lui praticamente prende il controllo di tutte le cave dell'impero almeno quelle dei marmi pregiati le cave secondo la legge romana ovviamente precedenza ricadevano sotto l'amministrazione dei munichipia delle colonie cioè la cava era gestita dalla colonia del munichipium quindi dai due duomveri quinquennalis cioè se non voglio banalizzare ma farmi capire dall'amministrazione comunale della città con augusto si cominciò lentamente a controllare direttamente la produzione delle cave è un processo lento che si completa in realtà sotto tiberio ma i primi esempi di questo processo sono proprio all'uni sotto molti aspetti le cave di luni sono una sorta di laboratorio nel quale si anticipano tutta una serie di linee politiche nella gestione delle cave che poi si estenderanno a tutte le cave dell'impero questa vediamo una veduta di luni la città da cui prende il nome del marmo lunense questo marmo bianco a grana fine che era cavato a circa 10 12 chilometri di distanza in linea d'aria in cave a un'altezza media fra i 400 e i 500 metri d'altitudine è un marmo che non ha niente da invidiare ai marmi del bacino docimeno e cioè del dell'ase minore adattissimo per la scultura adattissimo per gli elementi architettonici come vi ho detto prima mai sfruttato fino alla metà del primo secolo avanti cristo ci esistono delle sculture etrusche in marmo ma non si devono probabilmente a forme di cavatura organizzata erano dei blocchi di marmo che si staccavano che venivano trovati casualmente qualche volta vengono lavorati è soltanto con la metà del primo secolo avanti cristo che questo marmo comincia a essere sfruttato in modo sistematico ed ecco che su queste cave a partire dal 25 avanti cristo quindi nei primi anni di regno di augusto come autocrate troviamo incisi i nomi dei liberti imperiali dunque un primo segno tangibile della intromissione imperiale nell'estrazione del del marmo della cavatura del marmo adesso guardiamo un attimo come funzionavano queste cave questo il monumento forse più celebre delle cave del periodo romano della estrazione delle cavi lunensi questo rilievo che in realtà si data l'età severiana fine secondo inizio terzo secolo dopo cristo che viene dalla cava dei fantiscritti che prende nome proprio da questo rilievo fantiscritti cioè personaggi incisi ed è una triade di divinità evidentemente amata dai minatori giove ercole simbolo della fortezza e dionis quello che ci interessa però giusto dare un occhio a quella che era la come funziona la cava romana tipo le cave romane sono i petrali tendenzialmente cioè sono sotto il cielo non si scava in galleria c'è un'unica eccezione che era il marmo pario della variante lichnite era un marmo che scavava nell'isola di paro che era così pregiato che pur di seguire la vena si scavava in galleria alla luce lichne lichnite viene da questo delle delle lampade ma quello era un'eccezione altrimenti il marmo si cavava in queste cave a cavea vengono dette cioè perché sono come la cavea di un altro si tagliano i gradoni risparmiando uno spazio centrale che era destinato alla lavorazione dei blocchi che venivano staccati come si riconosce una cava antica in tutto questo in tutto il mondo romano una delle tracce più evidenti delle cave antiche sono le festonature quando voi vedete sulle pareti questi segni queste festonature questi segni paralleli vi trovate di fronte alle tracce di passaggio del passaggio di un piccone che cosa sono queste tracce voi immaginate che un operaio con un piccone scavava una trincea in latino caesura passando avanti indietro col piccone più volte più volte approfondendo la trincea sempre di più finché non raggiungeva l'altezza voluta del blocco che si voleva ottenere una volta scavata questa trincea alle spalle del blocco che si voleva ottenere sulla fronte del blocco venivano scavati tutta una serie di buchi nel quale si inserivano dei cunei poteva inserire dei cunei di legno e poi si bagnavano in acqua quindi gonfiavano schiantavano e consentivano di staccare la base del 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 blocco oppure dei chiodi in ferro una volta staccata alla base e sul retro il blocco veniva fatto cadere sui cosiddetti ravaneti ravaneti è un termine tecnico del gergo apuano cioè sono delle dei mucchi di detriti di marmo che attutivano la caduta perché uno dei rischi maggiori nel momento di cavatura è che il marmo introni introni vuol dire che si crepi se un blocco di marmo si crepa è inutilizzabile viene abbandonato in cava non ha più senso portarlo a terra quindi il blocco veniva fatto cadere su questi tappeti su questi su questi tappeti di detriti e portato al centro della cava in quello spazio libero lì era osservato dai probatores appunto i probatores erano per il meno un personale specializzato che doveva verificare che il marmo non fosse intronato quindi tagliato segato secondo le esigenze dai quadratari che lavoravano a scalpello i serrari che lavoravano invece a sega ottenuta la forma che si voleva il marmo era calato a valle tramite il sistema della lizzatura cioè praticamente con slitte che venivano legate a colonnine in marmo poste a distanze regolari e il blocco calato fino a valle dove era fatto salire su dei carri che lo conducevano fino al porto di luni non mi soffermo però su questo quello che mi interessava è ancora una volta l'aspetto gestionale allora che cosa possiamo trovare sui blocchi di marmo cavati a partire dall'età di augusto abbiamo detto il nome dei liberti imperiali che gestivano la cava la cava e a partire dal da tiberio dal 17 dopo cristo quando le fonti ci dicono con precisione che tutte le cave dell'impero entrano sotto il diretto controllo dell'impero dell'imperatore troviamo molti altri dati troviamo la data consolare l'anno in cui il blocco è stato cavato troviamo il nome dell'appaltatore ora ci torno ex con la formula ex ratione troviamo l'indicazione del brachium e del loco cioè della sezione e del posto in cui il blocco è stato cavato tutto molto preciso perché tutto rimandava degli archivi cartacei che ovviamente non ci sono giunti che servivano monitorare i processi di cavatura della ma della della cava ho parlato di appalti perché sì è vero la proprietà delle cave è imperiale ma non sempre gestita direttamente dall'impero ci sono delle cave che sono gestita dall'impero direttamente lo vedremo ma tendenzialmente erano tutte affidate in appalto a privati ora ricordate questo concetto fondamentale roma l'impero romano funziona sempre sul principio della devoluzione in appalto a privati tutti i servizi erano gestiti da appaltatori privati le tasse erano appaltati a privati la cantieristica militare le navi per la marina erano appaltati a privati la gestione dell'annona era appaltata privati gli animali per le per i giochi del circo erano appaltati a privati gli animali per i sacrifici erano appaltati a privati tutto era appaltato a privati c'è questo incredibile paradosso no che viene citato dagli dagli storici inglesi loro hanno calcolato che all'epoca di adriano il 120 dopo cristo l'impero romano dal portogallo all'iraq era gestito da una burocrazia di non più di 120 persone oggi 120 persone non sono in grado di gestire con e bagnarripoli all'epoca gestivano un impero di queste dimensioni ma come era possibile è perché la burocrazia era semplicemente finalizzata a verificare rispetto degli appalti che venivano dati a privati ok è così che funzionava l'alto impero poco si avrà un progressivo inserimento dello stato nella gestione dell'economia con il tardo antico con l'età severiana e poi e poi nei decenni successivi ma all'inizio tutto è affidato ai pubblicani noi conosciamo questo nome pubblicani dal nuovo testamento chi sono i pubblicani sono delle società di privati che si costituiscono per la gestione di un appalto pubblico ovviamente i pubblicani che ritroviamo nel nuovo testamento non sono i veri capitalisti capitalisti stavano a roma poi mandavano i loro serbi a riscuotere le tasse nel paesino da galilea che erano quelli che poi si prendevano le sassate oppure venivano insultate alla popolazione ma i veri pubblicani sono i grandi capitalisti che mettono insieme questi capitali appunto con cui gestire i servizi dello stato ecco le cave ugualmente il 90% delle cave era affidata a appaltatori che questo lo sappiamo per la fase tarda antica non deve essere stato molto simile per l'alto impero trattenevano gli otto decimi della produzione cioè gli otto decimi rimanevano in mano privata i due decimi andavano allo stato che cosa significa questo che questi otto decimi poi finivano sul mercato cioè esisteva un mercato libero dei marmi le cave erano di proprietà imperiale quelle che interessavano particolarmente erano gestite direttamente dall'impero però in realtà buona parte della produzione di queste cave imperiale finiva sul libero mercato e quindi esisteva una fluttuazione dei prezzi del marmo per cui ecco come si spiega una notizia come quella di Strabone che ci dice che il prezzo dei marmi bianchi crolla a causa della concorrenza dei marmi colorati perché piacciono di più e quindi costano di più e i marmi bianchi che non piacciono costano di meno ma questo è possibile in condizioni libero mercato e il libero mercato si spiega proprio perché esiste questa forma di appalti ecco queste nomi che noi troviamo incisi sui fronti di cavo sui blocchi come puteolani o numeri sono tutti numeri che servivano a capire le squadre degli appaltatori quanto avevano prodotto ok quindi era tutto un sistema organizzativo delle cave qui vediamo alcuni strumenti che erano utilizzati strumenti molto semplici dalle asce ai scalpelli ai compassi ma insomma ritorneremo dopo su brevemente sulla tecnologia un altro degli aspetti in cui le cave di luni furono una sorta di laboratorio fu la produzione dei semi lavorati a luni a partire dalla fine del primo secolo avanti cristo troviamo i primi esempi di blocchi scolpiti già in cava con la forma del prodotto finale cioè se si voleva fare un capitello già in cava si scolpiva il blocco a forma grossolana di capitello rossamente squadrato rossamente definito perché questo motivi sono vari naturalmente alleggerire il blocco per il trasporto ma un altro è l'indizio importante fino a questa epoca fino le cave che lavoravano non so per la costruzione del partenone il quinto secolo avanti cristo ma ancora le cave che di carrara che lavorano nel sedicesimo secolo per per il duomo di firenzio dicendo lavoravano sempre su ordinazione cioè non sono cave che rimangono sempre aperte arrivano ordinazione un committente che dice ho bisogno di 20 tonnellate di marmo e si straggono quelle 20 tonnellate di marmo poi possono passare dieci anni che nessuno vuole più il marmo e la cave è chiusa no in età romana le cave lavorano perennemente producendo prodotti destinati al mercato anche se non c'è un ordinativo preciso cioè sono prodotti che vengono tesaurizzati e questo questi marmi queste centinaia di tonnellate di marmi diventano parte essenziale del tesoro imperiale e vengono custodite nella statio marmo non c'è la stazio dei marmi che come vedremo è postale alle pendice laventino a roma quindi questa enorme produzione non più legata a commissioni ma una produzione costante destinata ad un consumo anche sui lungo periodo noi abbiamo dei casi limite per esempio a ostia un edificio che collassò in seguito a un terremoto del 394 dopo cristo ecco in questo edificio che era in costruzione in quel momento è stato trovato un blocco in giallo antico cioè marmonomidico che recava la data di estrazione dell'età di domiziano cioè di tre secoli prima che vuol dire che quel blocco era stato cavato tre secoli prima e per tre secoli era rimasto inutilizzato viene utilizzato solo alla fine del quarto secolo perché era stato tesaurizzato prodotto ma non per un consumo non un consumo immediato e questo è il primo esempio è chiaro di questa come dire uso capitalistico questo pre capitalistico delle delle cave romane altri indizi di una produzione come dire organizzato ormai a livello centrale anche altro indizio di questo controllo imperiale delle cave è l'uso di multipli standardizzati cioè blocchi sono quasi sempre sono sempre multipli di quattro piedi romani le iscrizioni come dicevo che danno la prova di una struttura amministrativa organizzata fino arrivare appunto a una produzione addirittura di semi rifiniti questo bisogna arrivare al pieno secondo secolo inizi terzo secolo dopo cristo quando in cava addirittura si definiscono gli l'ornato è lo schema dell'ornato finale del prodotto questo anche è importante perché determina la creazione di un vero e proprio gusto unitario una sorta di globalizzazione del gusto decorativo in tutto l'impero perché si usano gli stessi schemi decorativi per capitelli architravi sarcofagi che vengono già predefiniti in cava secondo quelle che si presume siano i gusti dei committenti faccio vedere solo un sarcofago poi una foto di un carico rovesciato poi ci ritorneremo brevemente quando parleremo delle navi marmorarie questo è una nave nofragata a largo del salento con i sarcofagi impirati uno dentro l'altro ricordate la soltanto per un principio con le navi marmorarie viaggiavano sempre al massimo carico i carichi delle navi romane che portavano marmi erano sempre eterogenei cioè non si portavano solo colonne o solo capitelli ma si portavano oggetti diversi in modo tale da occupare ogni spazio libero della stiva per un motivo molto per due motivi innanzitutto per dare maggiore stabilità alla nave e va soprattutto il vero motivo è per ridurre il rischio di spostamento del carico perché se per una tempesta il carico della stiva si sposta la nave affondara si inclina affonda rapidissimamente quindi il rischio maggiore era proprio lo spostamento del carico quando si portavano carichi come come questi per cui era essenziale che il carico rimanesse immobile per tutto il trasporto andiamo a vedere un po di queste cave imperiali di marmi di marmi colorati per farvi fuori dall'italia la prima il marmo giallo il giallo antico il marmo numidico che veniva cavato in questa città viene detto anche il marmo di simitto infatti oggi cemtù è nella tunisia occidentale non lontana dal confine con l'algeria a oltre 180 chilometri da cartagine quindi immaginate questi blocchi che lungo viaggio facevano fino a arrivare al porto d'imbarco un marmo molto bello come vedete un giallo pieno che non è stato più cavato dopo dopo la fine dell'antichità ed era un marmo che viene utilizzato ancora prevalentemente per il rivestimento parietale e di pavimenti raramente per la statuaria se viene utilizzato per la statuaria viene utilizzato ancora una volta in una chiave ideologica cioè per raffigurare barbari perché un marmo alieno ancora una volta è un marmo che non può che raffigurare personaggi dalle vesti sgargianti e nell'immaginario greco romano i barbari vestono in modo sgargiante quindi il giallo si prestava bene a raffigurare per esempio un dace come questa statua palazzo altems ancora una volta come si riconosce una cava romana vedete dalle festonature e dai blocchi ovviamente lasciati in situ sono proprio quei blocchi che nella fase di cavatura presentavano intronature cioè si fessuravano e non erano più utilizzabili o chiaramente una colonna che era fessurata non assicurava più la portanza cioè la capacità di sostenere il carico per cui veniva abbandonata con grande rammarico immaginate alle giornate di lavoro spese per scolpire per esempio quel fusto di colonna che poi erano costretti ad abbandonare ma le cave più spettacolari a mio parere sono le cave egiziane lo sfruttamento delle cave egiziane è una scoperta tutta romana si deve proprio a questa fame di marmo che caratterizza il primo impero c'è bisogno volontà desiderio di marmi sempre più belli sempre più unici sempre più sgargianti nei colori e in età giulio claudia claudio in particolare nerone promossero tutta una serie di prospezione cioè di ricerche di marmi pregiati nel deserto orientale dell'egitto e furono identificate due cave importantissime la cava del porfido dal mos porfiretus il porfido era utilizzato in età faronica ma erano più di mille anni che non si cavava più e il granito del foro sul mos claudianus mos claudianus proprio perché fu l'imperatore claudio a iniziare lo sfruttamento di quelle cave ora per capire l'eccezionalità di queste cave innanzitutto bisogna pensare al deserto orientale dell'egitto il deserto orientale dell'egitto uno dei luoghi più inospitali del pianeta se uno fa la foto del deserto orientale dell'egitto le paragona ai panorami di marte che ci sono restituiti dai dai vari rover che adesso girano sulla superficie del pianeta rosso sono uguali non c'è niente nel deserto orientale dell'egitto tant'è che il deserto orientale dell'egitto è la tebaide dove si andavano gli anacoreti proprio in assoluto isolamento a avvicinarsi a dio non ci sono fonti d'acqua non ci sono fiumi non c'è vegetazione non c'è assolutamente nulla in questi luoghi vennero impiantate delle cave che videro operare centinaia centinaia di operai contemporaneamente questo per esempio il mos porfirites vedete il panorama vedete le testimonianze di questa attività ostraca cioè sono cocci cocci montagne di cocci molto importanti perché questi cocci erano utilizzati per scrivere la carta costava il papiro costava in questi luoghi si preferiva scrivere sui frammenti di anfore e perché cosa ci scrivevano ci scrivano i conti ci scrivano l'amministrazione della cava cioè noi grazie a questi cocci sappiamo come funzionavano queste cave come erano amministrate come erano organizzate in alto vedete un frammento un esempio di porfido del mos porfirites il porfido naturalmente è una pietra che per il colore che ricorda la porpora è ritenuta la pietra imperiale per antonomasia fu nerone a scoprirla nerone amava tantissimo il porfido nerone si fece seppellire in un sarcofago di porfido è il primo imperatore a scegliere il porfido come sepoltura e questa è una cava che con ogni probabilità rimase sempre sotto il diretto controllo imperiale cioè non fu mai data ad appaltatori privati questo ce lo rivela un aneddoto relativo antonino pio antonino pio un imperatore a metà del primo del secondo secolo dopo cristo e questo aneddoto della storia augusta ci dice che lui rimase molto colpito un giorno andando nel palazzo di un privato cittadino ricchissimo di roma vedendo in questo palazzo una colonna di porfido tant'è che chiese al suo ospite ma questa colonna come l'hai avuta e il fatto che l'imperatore si fosse meravigliato di vedere una colonna in porfido in un palazzo privato dimostra che il porfido non circolava sul mercato evidentemente quindi era interamente gestito dall'impero molto più interessante e qui mi dilungo brevemente è la cava del granito del foro ancora una volta un termine utilizzato dai lapicidi romani il sedicesimo secolo un granito che si trovava in tale quantità nell'area dei fori imperiali che venne chiamato granito del foro per antonomasia ma in realtà era cavato appunto in queste cave a 700 metri d'altezza al centro del deserto orientale dell'egitto era un luogo assolutamente inospitale e però ha grande vantaggio di possedere un clima che conserva tutto si sono conservati gli ostraca con tutte le notazioni sull'amministrazione della della cava si sono conservate pensate un po persino le latrine che usavano i minatori e dentro le latrine le feci dei minatori e perché sono così importanti perché grazie alle feci ai minatori noi sappiamo cosa mangiavano questi operai e allora come funzionava la la cava del mos claudianos del 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 granito del fuori al momento della sua massima efficienza ecco che dagli ostraca noi sappiamo che c'erano 816 operai e uso il termine operai perché tutta maestranza retribuita non c'erano schiavi non c'erano dannata metalla che ci potevano essere anche nelle nelle cave di di marmo per esempio ma le cave il proconneso sono un classico luogo di detenzione in epoca tardantica qui no qui sono tutti operai pagati anzi con stipendi pari al doppio della media degli stipendi pagati la valle del nilo quindi erano pagati molto ora curiosamente questi 816 operai nell'amministrazione sono divisi in due grossi gruppi che si chiamano pagano i pagani e famiglia ipotesi più probabile questa distinzione che i pagani che erano 416 fossero gli operai al servizio degli appaltatori privati pagani pagano vuol dire abitante del villaggio ciò vuol dire indigeni erano operai indigeni famiglia invece probabilmente famiglia imperialis cioè erano invece operai dipendenti dall'amministrazione statale che cosa significa significa che la cave era stata divisa in parti uguali per metà era gestita direttamente dall'impero per metà era stata data in appalto a privati completavano l'organico due architetti e 60 soldati il che porta la cifra complessiva oltre 900 individui 900 individui che abitavano in un luogo dove ripeto non c'era assolutamente niente che significa che solo per portare l'acqua per dissetare 900 persone in un luogo del genere significa una logistica particolarmente complessa quando poi siamo andati a vedere cosa contenevano le feci degli operai si è visto che gli operai avevano una dieta basata su un consumo abbondante di frutta fresca di lattuga di ostriche e di pesce fresco come diavolo facessero a portare lattuga pesce fresco a 120 km dalla valle del nilo e a 90 km alla costa del mar rosso non avendo camion con i freezer rimane un grande mistero però perché mi soffermo su questo per farvi capire come la sullo spostamento di queste enormi masse di marmo da una parte all'altra dell'impero è espressione di una logistica raffinatissima che partiva dalla corretta alimentazione degli operai si era in grado di garantire un'ottima alimentazione degli operai e da qui si capisce come questo fosse possibile poi pensate questi blocchi questi blocchi che da 700 metri di altezza della cava del deserto orientale hanno portati fino alla valle del nilo con una strada militare con carri fino a 12 ruote lo sappiamo sempre delle fonti gli ostraca trainati da asini usavano asini questi asini si riposavano ogni due miglia c'era una sosta per il ristoro per l'acqua perché se non ce la facevano morivano sia gli uomini che gli animali i blocchi quindi percorreva 120 km arrivare alla valle del nilo i blocchi di granito del foro erano quindi traslati sui barconi che risalivano il nilo per 600 km fino alle estande d'egitto dove erano traslati sulle navi marmorarie quella che attraversavano il mediterraneo che con un viaggio nel migliore dei casi di 10 settimane nel peggiore di 20 quindi un mese e mezzo due mesi e mezzo arrivavano a ostia portus rome cioè le foci del tevere i blocchi erano traslati sulle chiatte che risalivano il tevere trainate col sistema dell'allaggio cioè c'erano dei buoi che camminavano lungo la riva che tiravano con delle funi il barcone arrivati alla ventino e poi di la ventino i blocchi erano finalmente depositati alla stazio marmorum questa via del marmo che ho ricostruito per il caso dell'egitto dovete immaginarla in frigia dalle cave del pavonazzetto fino ad efeso dovete immaginarla in attica dalle cave del pentelico fino al pireo dovete immaginarlo in umidia dalle cave di simittus che abbiamo visto prima fino a cartagini cioè un sistema organizzativo un sistema logistico davvero complesso che vediamo ancora un'immagine di un labrum cioè una grande vasca rimasta incompiuta perché intronata nelle cave di mos claudianus ma per farvi capire quale fosse il grado di efficienza bisogna fare un paragone con qualcosa che c'è noto a tutti la colonna di santa trinita ora il fusto della colonna di santa trinita è un fusto in granito del foro quindi in granito cavato in quella cava che avete appena visto che cos'era questa colonna questo è un fusto di colonna di 40 piedi romani di altezza cioè 11 metri del peso di 57 tonnellate come giunto a firenze questo era l'ultimo fusto di colonna rimasto in opera nella natazio delle terme di caracalla vedete non so se si vede qui sono quelle colonne che erano addossate alla parete la natazio era un grande spazio non coperto delle terme di caracalla occupato da una grande piscina di 50 metri di lunghezza per 25 di larghezza era una piscina olimpionica però non era profonda come la nostra piscina olimpione che non era concepita per fare i tuffi era concepita per stare a mollo nei giornate calde e questo spazio era bordato come vedete da delle colonne in granito del foro che erano accostate alla parete era rimasta solo una in piedi nel 1560 quando cosimo primo fece suo primo viaggio a roma vide visitò le rovine della delle terme caracalla vide questo fusto e chiese al papa più quarto di avere in dono questo questo fusto il papa glielo donò la colonna fu sradicata e fu portata fino ai piedi dell'aventino dove caricarla su un barcone dal terme caracalla ai piedi all'aventino ci vollero tre mesi e il trasporto di questo fusto fu un vero evento tutta roma andò a vederlo persino michelangelo sappiamo dalle sue lettere andò vedere il trasporto di questo fusto che partiva per firenze arrivato ai piedi all'aventino fu caricato su un barcone che poi arrivò ostia quindi portato su una nave quindi fino a pisa risale e l'arno 15 mesi nella primavera del 1563 il barcone che porta questo fusto si arena definitivamente alla strassigna non riescono più a mandarlo avanti sono costretti a costruire un carro rinforzato trainato da sei coppie di buoi che parte su cui traslano il fusto parte dalla strassigna il 23 luglio del 1563 arriva a porta pisana nel 21 settembre del 1563 due mesi per fare 10 chilometri quando arrivò a porta pisana cosimo prima era così contento che fece una festa pagando vino gratuito per tutta la popolazione immaginate qual era la gioia per questo evento da porta pisana a piazza santa trinita e a essere innalzata ci vogliono altri due anni la colonna fu innalzata nel 1565 per portare quindi questo fusto di colonna da roma a firenze 300 chilometri in linea d'aria ci vollero cinque anni e ci lavorano due architetti al calibro di vasari e dell'ammannati ai quali sarebbe rivolto cosimo colonne in granito del foro uguali a quelle di santa trinita solo nella facciata il panteo ce ne sono 16 e non erano portate non da 300 chilometri in linea d'aria erano state portate a 3000 chilometri in linea d'aria capite qual è la differenza profonda nella seconda metà del sedicesimo secolo pur possedendo le stesse cognizioni tecnologiche sostanzialmente del secondo secolo dopo cristo per portare solo una di queste colonne ci sono voluti cinque anni quando in età romana queste colonne si portavano a decine nell'arco di pochi mesi per 3000 chilometri e queste colonne da 40 piedi non erano erano normale amministrazione nel foro itraiano sono utilizzate più di 40 colonne da 50 piedi che sono 14 metri pesi intorno ai 65 70 tonnellate come se ricordate quello detto prima il tempio di martitore monoliti da 60 piedi cioè quasi 16 metri 80 tonnellate portati senza problemi da un capo all'altro del mediterraneo come era possibile grazie a una efficienza e una logistica che solo l'impero riuscì a garantire prima dell'avvento dell'era industriale fino al mille fino al settecento inizio ottocento non si può neanche immaginare di movimentare tali quantità tali pesi per distanze così ampie tanto che si può parlare di un vero e proprio come dire impatto ambientale questo questo era già evidente agli antichi infatti voglio leggere un passo del plinio il plinio il vecchio scrive appunto all'età dei flavi fino al primo secolo dopo cristo il quale si sente in dovere di compiangere la natura per questo per questo sfruttamento dei marmi in tutto l'impero dice ormai la natura è ridotta a un piano livellato mentre si fabbricano navi per caricarvi i marmi e le vette montane sono portate a destra e sinistra sui flutti ma questo era vero pensate che nell'isola di tasos dove si è già settentrionale dove si cavava un marmo bianco fu cancellato un intero promontorio il marmo africano il marmo di teos che avete visto prima fu sfruttato a tal punto che non solo fu cancellato un'intera collina ma fu sottoscavata per oltre dieci metri tanto che dove c'era la cava antica oggi c'è un lago pensate che la i prodotti della lavorazione del marmo erano talmente inquinanti che la polvere causata dalla segagione dei dei blocchi di marmo nel porto di efeso furono bloccati vietati nel 142 dopo cristo perché era talmente tanta la polvere prodotta che aveva insabbiato il porto quindi c'era veramente una un uso spietato di livello industriale che noi non riusciamo neanche immaginare certo macchine come queste la rota calcatoria le macchine tractorie garantivano spostamento di blocchi senz'altro eccezionali era poi quello che ricordava prima giovanni uno dei dubbi come siano stati in grado di sollevare grandi blocchi che formano la colonna traiana senz'altro l'empirismo li aveva portati a elaborare sistemi di sollevamento particolarmente raffinati ma non andavano oltre sempre al principio della ruota della leva o della ruota cioè sono principi tecnologici ancora se vogliamo elementari quelli che governano lo spostamento di questi blocchi la verità è che queste grandiose costruzioni di marmo sono la testimonianza di qualcosa anche di più della estinzione dell'impero romano sono la prova tangibile della efficienza dell'impero romano sono la dimostrazione tangibile di come l'impero funzionasse bene come fosse in grado di fare qualcosa che altrimenti non era neanche lontanamente immaginabile guardiamo qui l'immagine della della delle navi marmorari come potevano essere navi dai 30 ai 40 metri che erano capaci di portare fino a 300 tonnellate ma qual era il ganglo vitale quindi l'amministrazione del marmo dell'impero abbiamo citata più volte la stazio marmorum ai piedi dell'aventino che sempre è stato il porto d'imbarco ma anche il luogo di tesaurizzazione dei marmi che giungevano da tutte le cave dell'impero a roma pensate che tra il 1868 e il 1870 quando fu scavata l'area della stazio marmorum per realizzare i nuovi lungotevere insomma attuale furono trovate 1500 colonne 60.000 lastre di marmo è soltanto una percentuale di quell'enorme quantità di marmo tesaurizzato come avevo detto prima che era stato trasportato a roma e lasciato come tesorio imperiale vero e proprio da utilizzare nell'arco del tempo nella stazio marmorum qui nella stazio marmorum che qui vediamo nel disegno del piranese oggi tutto questo purtroppo non c'è più perché ripeto è stato cancellato nell'ottocento per la realizzazione degli degli argini moderni ecco qui aveva sede l'amministrazione il ganglo burocratico dell'amministrazione del marmo imperiale qui risiedeva il procurator marmorum che era un liberto imperiale quindi era una persona di fiducia all'imperatore strettamente legato all'imperatore un ex schiavo dell'imperatore il procurator marmorum aveva una burocrazia formata da tabulari e da segretari e a lui facevano capo tutti i procuratori del marmo sparse nelle diverse aree dell'impero dove c'erano cave estrattive quindi lui gestiva gli appalti e tramite i suoi corrispondenti gestiva gli appalti in tutta in tutto l'impero quindi questo è il luogo di arrivo dei marmi a roma questo il luogo dove i marmi venivano conservati fino all'età flavia fino alla fine del primo secolo dopo cristo perché poi tutto fu sostituito da questo incredibile prodotto dell'ingegneria romana che è il porto di traiano il porto di ostere insufficiente traiano inizia il secondo secolo dopo cristo realizza questo incredibile bacino esagonale che ripeto l'unica costruzione dell'uomo visibile dallo spazio in italia cioè grande bacino esagonale di 360 metri di lato tutto scavato che era il luogo dove di arrivo delle navi non soltanto marmorarie ma che le portavano il grano ed era essenziale questo canale laterale che fu artificiale che metteva in comunicazione il bacino del porto con il tevere grazie alla fossa traiana oggi il fiumicino perché si chiama fiumicino è il canale artificiale scavato da traiano per mettere in comunicazione il bacino del porto di traiano con l'albero del tevere e grazie a questo canale artificiale venivano le navi che arrivavano via mare passavano il carico ai chiattoni i chiattoni fluviali e chiattoni fluviali risalivano il fiume fino a roma quindi un sistema estremamente efficiente gestito da una corporazione di traghettatori che si chiamava traiectus marmorarium per quello che riguarda appunto la gestione del marmo e qui vedete appunto la pianta con la fossa traiana in basso che è appunto il canale artificiale che metteva in comunicazione il porto di traiano con l'albero del tevere cosa succede nel corso del tempo la faccio breve abbiamo il sistema di sfruttamento delle cave conosce un profondo ristrutturazione in età severiana inizio del terzo secolo dopo cristo non sappiamo non conosciamo i dettagli sicuramente c'è un processo di stati statalizzazione ulteriore cioè lo stato cerca di controllare sempre più direttamente le cave con certezza da questo periodo spariscono tutte le iscrizioni sui blocchi non ci sono più date consolari non ci sono più i luoghi di estrazione i nomi dei committenti i nomi degli appaltatori è un periodo in cui noi sappiamo molto poco per una convergenza di elementi sicuramente questa grande riforma questa voluta dagli antonini e portata avanti dai dai severi sulla gestione delle cave ma anche una calo radicale della richiesta del consumo di marmo sapete il terzo secolo dopo cristo momento di crisi economica momento di crisi politica cessano le grandi committenze roma non si costruisce più niente tra caracalla e diocleziano si consuma poco marmo ma contestualmente anche molte delle grandi bacini molte grandi cave tradizionali si vengono esaurendo quindi il terzo secolo c'è questa congiuntura sfortunata per esempio le cave di luni dagli inizi del terzo non sembrano essere più sfruttate perché non sono più sfruttate sì forse si è interrato il porto ma in realtà perché il marmo di luni non riesce più a sostenere la concorrenza di altri marmi bianchi come il marmo del proconnesio adesso vanno forte i marmi che sono più utilizzati dal terzo quarto quinto secolo dopo cristo sono i marmi che vengono cavati sulle isole e perché perché sulle isole si annulla la distanza fra il punto di cava l'imbarco cos'è che costava nel marmo di lunese portare i blocchi di marmo dalle cave per 12 chilometri fino al porto a noi sembra strano ma questo tragitto via terra costa enormemente perché deve essere fatto con i buoi e i buoi mangiano e costa si è calcolato che non solo per il marmo ma qualsiasi merce nel mondo romano venga trasportata via terra raddoppiava il prezzo ogni 40 miglia percorsi via terra capite perché nell'economia romana era essenziale trasportare per quanto possibile tutto via acqua perché l'acqua annullava i costi trasporto ecco perché in epoca tardo antica i marmi più utilizzati sono proprio i marmi che si cavano sulle isole tasos nord ecitto e soprattutto il proconnesio che quest'isola al centro del mar di marmara ancora diciamo così ma si chiama mar di marmo perché il mar di marmo marmara in greco e che è un'isola interamente di marmo che viene spogliata e sfruttata sistematicamente anche per la costruzione della nuova capitale imperiale costantinopoli costantinopoli fatta tutta di marmo e il proconnesio ma anche le chiese ravennati quando arriviamo noi arriviamo al sesto secolo dopo cristo la tecnologia del marmo è ancora intatta le cave non sono più numerose come prima ma ancora si trasportano enormi carichi di marmo da un capo all'altro del mediterraneo sapete sono stati trovati dei relitti di sesto secolo dopo cristo con delle intere chiese in marmo smontate al loro interno cioè intere capitelli fusti altari transenne tutto in marmo del proconnesio che avevano portato da un lato all'altro dell'impero quindi ancora la tecnologia sistema amministrativo logistico del sesto secolo dopo cristo è ancora funzionante sono meno è vero i luoghi di cava ma il sistema funziona ancora in realtà funziona ancora il l'ideologia che dietro il marmo ci chiudo appunto facendo vedere santa sofia di costantinopoli e citando una fonte che paolo silenziario che nel 563 descrive la la basilica nuovamente ricostruita perché santa sofia fu realizzata prima volta negli anni trenta del sesto secolo collassò a causa di un errore di di progettazione nel 559 fu ricostruita in pochissimi anni il 563 fu reinaugurata paolo silenziario scrive un ecfrasis cioè una descrizione di santa sofia e quello che ci interessa che mi interessa e che in questa celebrazione della chiesa elenca tutti i marmi che sono utilizzati che sono marmi che ben conosciamo il marmo numidico dell'africa il caristio dell'eubea il marmo dei dichio il marmi marmi egiziani come il porfido marmi anche nuovi come i marmi pirenei dei brecciati che vengono dal pirenei dai pirenei e perché li cita perché dice questi marmi sono la testimonianza tangibile dell'estensione della parola di cristo vedete la stessa ideologia di augusto però adesso tradotto in termini cristiani quei marmi che vengono dagli angoli più lontani del mediterraneo adesso non sono più la prova dell'estensione fisica dell'impero ma sono leste la prova dell'estensione della parola di cristo ma è cambiato il signore tra virgolette ma l'ideologia romana è rimasta la stessa nel sesto secolo ancora il marmo è importante per il valore simbolico e ideologico che che contiene grazie se avete domande grazie grazie fabrizio se qua per questa bellissima conferenza c'è una persona che vuole fare una domanda è via pisana via pisana e borgo san frediano sì sì quella perché lì arrivava la strada da pisa quindi da la strassigna ed arrivò da lì e poi c due anni per arrivare santa trinite prego prego sì e due domande ma quindi se queste cave funzionavano lavoravano in continuazione accumulavano materiale ma allora questo significa esisteva anche una certa modularità nell'architettura l'architetto non è che poteva inventarsi molto in buona misura doveva adeguarsi lui a quello era disponibile sul mercato e questo forse in parte spiega anche un po la ripetitività di certe forme architettoniche dell'impero e poi due la seconda domanda ma esistevano varie stazio marmorum penso nell'impero non credo arrivasse tutto a roma e da lì venisse rimandato in iberia o in gallia o da altre parti benissimo grazie dunque assolutamente vero esiste uno stile del marmo viene chiamato proprio così in epoca imperiale i blocchi vengono lavorati secondo degli stilemi dei moduli che vengono divengono comuni adottati in tutto l'impero sono dettagli tipo l'accanto spinoso cioè capitelli l'accanto spinoso diventano esclusivi in epoca proto e medio imperiale perché vengono definiti come tali già in cava esisteva però la possibilità anche di commettenze specifiche per esempio un caso molto interessante nelle cave l'isola e proconnesio è stato trovato un capitello realizzato in una pietra calcarea tipica del carso e questo capitello infatti è uguale ai capitelli del foro di aquileia che significa che ad aquileia hanno mandato la cava del proconnesio un modello di capitello come lo volevano loro e questi hanno lavorato in cava i modelli e i capitelli secondo il modello che avevano ricevuto quindi una forma di committenza diretta però è vero che la produzione era seriale secondo stilemi tant'è che si parla proprio di stile del marmo marbro style per per l'epoca imperiale quanto alle varie stazio no in realtà la stazio era unica perché la stazio marmorum di roma raccoglieva tutti i marmi destinati all'impero quindi quella che gli appaltatori dovevano allo stato gli altri erano sul mercato privato quindi finivano sul mercato sulla libera contrattazione a roma venivano letteralmente tesorizzati tutti i marmi che o erano cavati direttamente come appunto il porfido oppure erano dovuti dagli appaltatori privati allo stato quindi era una forma di tesorizzazione centrale del marmo è una testimonianza direi estrema proprio di questo controllo di questa risorsa così pregiata poi probabilmente questi qui erano progressivamente rivenduti anche sul mercato a quelli di proprietà imperiale a seconda del periodo parliamo di cinque secoli di storia in epoca tardo antica probabilmente molti questi blocchi di proprietà imperiale furono rimessi sul libero e mercato però sì è la cosiddetta gift economy allora è tipica della una volta dell'impero perché l'imperatore tesorizzava tutti questi marmi perché poi poteva donarli era uno strumento di potere era uno strumento di come si può dire creare delle dipendenze con le varie comunità abbiamo delle dediche delle iscrizioni alle quali apprendiamo per esempio che l'imperatore a determinata città ha donato 20 colonne per il portico del foro cioè era la gift economy per l'economia del dono che ha la base di questa gestione del marmo il mai l'imperatore detiene il marmo proprio per poterne farne dono a quelli che vuole lui quindi uno strumento di consenso capite però effettivamente rientra tutta una serie meccanismi che possono non essere immediati stiamo parlando sempre del primo secondo secolo dopo cristo con la fine dell'età severiana al 230 in poi le cose cambiano c'è una progressiva ingerenza dello stato nella gestione anche delle cave e quindi questo cambia anche il la gift economy prego si prego quanto ci voleva per portare il marmo per esempio da dalla grecia a roma noi conosciamo i tempi percorrenza d'alessandria perché lo dicono le fonti che sono al massimo dieci mesi dipende dai dei venti comunque al massimo un mese e mezzo quindi grosso modo 10 mesi scusi 10 settimane quindi un mese e mezzo tra un mese e mezzo e due mesi si andava bene anche i quattro mesi si riusciva e le marmorarie che andavano lenti altrimenti le le navi che quelle veloci militari riuscivano a coprirlo sotto la settimana questo grazie per di precorrenza prego si la modularità non era quindi solo negli stili ma anche proprio nelle dimensioni non poteva pensare templi troppo alti perché le colonne sul mercato erano di quelle altezze si era anche varie particolari troppo diverso 40 piedi era la più diffusa 50 piedi per le committenze imperiali sostenute 60 eccezionali si parla prego scavate in cava e anche rifinite in cava perché erano talmente pesanti che i fusti almeno si cercava di lavorarli in cava e quanto possibile per ridurre il peso al massimo sì sì io ho avuto occasione di vedere quelle di marmara era una quantità di colonne rotte ma tutte queste colonne per i mesi si sono rotte non l'hanno rotta eh sì sì era il rischio maggiore che si intronassero si rompessero in cava perché erano soldi perduti e anche gli obelischi esatto sì sì ma in fase la fase di lavorazione era molto 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 rischiosa come tutte le fasi di trasbordo del dei blocchi per esempio il porto straiani abbiamo trovato molti blocchi oltre 360 nella fossa traiana perché cadevano nelle fasi di trasbordo da terra alle navi e c'era il porto fluviale di roma era all'aventino alle pendici l'aventino era la stazio marmo era proprio lì ancora oggi se uno si affarcia vede ci sono dei resti di orrea cioè di magazzini che afferivano proprio sistema portuale dell'aventino che era il porto di tutto insomma di roma lì arrivava tutto l'annona i marmi e arrivava tutto lì sì sì proprio le pendici sotto santa sabina presente santa sabina che sta all'aventino proprio sotto lì ma era enorme io ho fatto vedere prima una una dettaglio della della forma urbis vedete noi conosciamo il l'area degli orrea soprattutto grazie a questa pianta di età di età severiana ed era un sistema di magazzini modulari che si estendevano sul quartiere di alcuni ettari cioè qui veniva depositato tutto quello che arrivava a roma quindi il grano per un milione di persone cioè tutto quello che era legato la nona della città sì prego ecco mi chiedo ma perché non farle arrocchi le colonne invece che fare tutte e poi ricomporle che sono più belle che sono più belle i greci che non ci riuscivano e facevano arrocchi perché era più comodo da spostarsi da montare però ecco in realtà questo riguardo la tecniche scultore no sé io sono ignorante questo in questo però ho visto prodotti dell'età ellenistica estremamente raffinati no delle sculture di basso rilievi di alto rilievi cose che invece in età romana mi sembra siano molto più diciamo meno 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 belle è legata è legata all'ampiezza del mercato in età romana si lavora per un mercato molto ampio quindi quando si lavora in modo seriale quello che conta è il tempo di produzione dunque per esempio in età romana le parti della scultura che non si vedono non si stanno a scolpire non le vede nessuno perché devo perdere tempo a scolpirla in età classica ellenistica si scolpivano anche le parti che non si vedevano però in un diciamo in un mercato dominato dall'economia e del massimo guadagno è ovvio che ci sia una produzione seriale quindi qualitativamente più bassa poi è chiaro c'è una committenza alto livello facciamo anche prodotti alto livello non è che l'arte romana sia decadente o peggiore rispetto a quella greca rimangono sempre grandi ci sono grandi artistiche però lavorano su committenze di prestigio il grosso era destinato ad una produzione media perché adesso esiste un mercato medio che non esisteva in età classica ellenistica prego si prego porto di traiano sì ma era solo un motivo estetico che le sappia qualcuno ha studiato se c'era anche qualche motivo ingegneristico tipo per evitare i battimenti cioè di drarica marittima all'interno se qualcuno ha studiato che lei sappia noi studiare del fatto che non si sa molto dell'organizzazione l'ipotesi più probabile che fosse per creare una suddivisione in settori logistici cioè ogni lato dell'esagono probabilmente è destinato a scaricare o caricare prodotti particolari quindi il numero dei lati era il maggiore possibile per garantire l'attracco al maggior numero possibile di navi ma al tempo stesso diversificando la flusso di traffico in modo significativo la verità che non sappiamo molto il dettaglio bisogna tener conto sempre che l'impero romano esistevano delle tasse interne il portoria si chiamano per cui una nave che arriva da fuori provincia deve pagare una tassa per cui deve essere registrato l'arrivo deve essere verificato l'arrivo lo scarico delle merci deve essere quantificato che poi si passava si pagava il portorio proprio in ragione delle merci trasportate quindi non è che l'arrivo in porto fosse caotico dove essere tutto gestito in modo preciso per cui il lato il numero dei lati e l'esagono si pensa sia legato a ragioni logistiche amministrative organizzative del del porto esagonali no circolari si esagonali è un porto unico nel suo genere ancora oggi bacino esagonale è riempito d'acqua fa parte del parco torlonia chi lo vuole vedere merita la merita la vista è chiaramente una opera ingegneri ingegneristica unica bello sì quando uno decolla con l'aereo e sotto sono sa faccia lo vede perché enorme si passa proprio sopra pensate quando volevano costruire fiumicino negli anni sessanta una delle piste secondo loro devo passare lì sotto torontoglie che fiumicino sia stata costruita in buona parte sul porto di claudio quindi il grande bacino antistante al porto di traiano tant'è che come sapete dove andate alle porti fiumicino c'è il museo delle navi che accoglie quelle navi che furono trovate al momento della realizzazione della navi epoca romana che furono trovate al momento realizzazione della dell'aeroporto abbiamo una domanda da youtube sì i marmi di leptis magna furono davvero trasportati dalla libia in francia per costruire la reggia di versailles a questo sì ci furono forme di spoliazione ora quelli leptis magna francamente no non c'è non che si non che io sappia credo di però leptis magna è un caso proprio singolare di quella gift economy che ricordavo prima i grandi fuori età severiana sono tutti realizzati in marmo microasiatico pagati dall'imperatore settimio severo e la cosa carina è che molti di questi blocchi recono la firma dei lapicidi che erano lapicidi microasiatici cioè col marmo erano viaggiate anche le maestranze e questo non è un caso per esempio c'è un relitto trovato le bocche di bonifacio nel 27 avanti cristo di una nave carica di blocchi di marmo di luni oltre ai blocchi sono stati trovati gli strumenti per scolpire il marmo quindi insieme ai blocchi viaggiavano anche le maestranze cioè adesso accade quello che era accaduto a roma agli inizi ricordate il primo tempio in marmo a roma fu costruito da architetti da maestranze greche perché nessuno sapeva lavorare il marmo roma diventa stavolta punto di irradiazione della cultura del marmo in occidente perché adesso è dall'italia che parte il marmo l'unense con il marmo l'unense le maestranze in grado di lavorare il marmo l'unense perché i blocchi naturalmente in spagna in gallia dove nessuno sapeva lavorare il marmo quindi con i blocchi do viaggiare anche le maestranze e questo per esempio accade alla prismagna bene se non ci sono altre domande allora ringraziamo di nuovo fabrizio paolucci per questa per questo bellissimo intervento vi ricordo che il ciclo dei martedì museo galileo riprende martedì 22 novembre avremo qui paolo giulierini il direttore del museo archeologico nazionale di napoli e dunque grazie a voi per la presenza per le per la partecipazione grazie ancora a fabrizio e a presto buonasera grazieuru a vi 견� radio grazie 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 grazie